questi capelli che tutti dicono come li devi portare corti dopo una certa età mai lunghi quando sono sfibrati colorati per non far vedere il bianco della ricrescita legati se sono sporchi a caschetto come motociclista coi boccoli la treccia la crocchia nomi che si contorcono sotto un velo dove non esce neanche una ciocca o ti fracassano gli ossi come se passa tutta la donna nei peli che ha in testa come fili scoperti che danno la scossa appena li guardi sono il cordone ombelicale del padre sono il cordone ombelicale del padre grazie Grazie a tutti.